SEM. Sam, mi senti? Sam, sei sicuro ora. Che pensi che sei ora? In Labyrinth. Mi sembra che con la ragazza adesso ci sia un profiler. Un profiler? Provano ad entrare nella sua testa. È stata ritrovata. Ormai non c'è più bisogno di te. Ieri notte eri nella baluta. Hai visto la ragazza? Ti sei fermato e chiamato i soccorsi. La ragazza non era sola. Giusto? Il tuo nome è Samantha Andretti? Sam, sei scusato 15 anni fa. In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista. Cunigli. Forse è giunto il momento di farle conoscere Banni. Dobbiamo sapere cosa ricordi ora. E devo arrivarci prima di lui. Perché? La storia non finisce così giusto. Perché è non l'interno, ma l'interno di tua mente. Grazie a tutti.